Un esilarante viaggio per il sud Italia con Pinuccio e il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Alessio Gennone, in arte Pinuccio, ha presentato ad Andrea presso la sala Timonelli dell'Albergo dei Pini il suo ultimo libro dal titolo Trump Advisor, un testo che ha come filo conduttore un viaggio tra Puglia, Basilicata e Calabria in compagnia del noto comico satirico Barise e della famiglia Trump, alla scoperta delle bellezze del sud ma anche dei suoi aspetti più negativi e curiosi, ma soprattutto un esempio che mette in luce il fenomeno della satira politica made in Puglia. Pinuccio, di cosa parla Trump Advisor e come nasce? È un libro di cucina, no sto scherzando. Trump Advisor nasce questa primavera quando abbiamo avuto la notizia di questa eventuale vacanza di Trump in Puglia e siccome avevo in mente di scrivere una guida per la Puglia un po' diversa, poi Mondadori ha detto vabbè mi scrivo scrivo una guida per la Puglia, perché non scrivo una guida per la Puglia con Trump in giro e quindi è nato questo libro. Ecco, ma è anche un metodo per parlare dei problemi che riguardano anche il sud Italia nel tuo libro? Beh sì, perché io diciamo che questa guida, questa gita con Trump fa vedere sia le cose belle che le cose brutte della Puglia, mi è servito Trump anche perché a Trump piacciono le cose brutte e quindi tutte le cose brutte che gli ho fatto vedere a lui sono piaciute e quindi una guida onesta, diciamo così. Ecco, posso chiederti un piccolo siparietto per conteguare una chiamata di Trump? No, la chiamata di Trump a quest'ora non si può fare perché col fuso ora è il culo da Dormango, quindi poi lo chiamo e ve lo dico che cosa mi ha detto.